Per far fronte alla crescente complessità, le organizzazioni devono diventare più innovative, agili, capaci di adattarsi rapidamente. La realtà, tuttavia, è che la tipica struttura gerarchica appesantisce, rallenta e genera delle dinamiche limitanti, tra cui compartimenti stagni, burocrazia, avversione al rischio e mancanza di accountability e innovazione. Equacy è un nuovo design organizzativo centrato sull'uomo e basato su una struttura radiale paritaria di team auto-organizzanti e coordinati tra loro, ed espande il potenziale individuale di team e organizzativo. Adottare Equacy significa potenziare agilità, performance, innovazione, collaborazione ed engagement. L'Equacy Taster è un workshop di una giornata altamente interattivo che permette ai partecipanti di comprendere perché nelle aziende organizzate in modo gerarchico si generano e si ripetono delle dinamiche limitanti. Permette anche di sperimentare in modo diretto cosa significa prendersi la piena responsabilità del proprio ruolo e dei risultati del proprio team all'interno di un contesto senza capi. Infine, permette di sperimentare cosa cambia in termini di engagement e performance passare da un paradigma gerarchico ad uno basato su team auto-organizzanti. Cosa aspetti? Iscriviti ora al prossimo Equacy Taster! Grazie a tutti!